ok ciao a tutti bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game bentornati su f1 race starts lasciamo che si colleghi al tutto allora continuiamo la carriera via questa volta jenson button vieni premuto a per cambiare power up ok non so ancora cosa significano certe cose ma proviamo allora oceania perfetta adesso andiamo a fare questo episodio le gare nelle americhe da capisco sono tre le gare da brasile fra brasile stati uniti andiamo a scoprire sempre classe più bassa quando mi sentirò pronto aumenterò la classe mentre carica il tutto mi devo un attimo sistemare un aspetto dello schermo ok adesso vedo meglio per voi non cambia niente aiuto ci sono bestie lì chiamami videochiamami com'era la città a ho già bisogno di riparare l'auto non ci sono e che qua c'è un posto per riparare noto dov'è qua benissimo e comunque sono in quarta posizione pensavo peggio manco dirlo non c'è un posto per riparare noto piove ed è solo il primo giro west e no non ho bisogno di riparare ho sbagliato a eso si que debo disparar en la maquina oh 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 riparata e si riparte un'altra volta oi dai che sorpasso tutto dai colpisci no si vediamo se riesco ad arrivare primo sorpassandolo per ora sono primo ma non è ancora finito che c'è qua la grotta la safety car fa rallentare ok fine della gara in prima posizione senza danni maligno devo aver combinato un bel po' di guai ah ci sono due che hanno zero punti benissimo adesso evento 2 di 2 perché mi diceva 0 di 3 prima non riesco a capire vabbè stati uniti stati disuniti non ho capito se esiste anche una partenza migliore cos'ho combinato cos'ho combinato oh sono passato in prima posizione dai dove devo andare è la direzione giusta vedevo la freccia verso destra invece ho perso tempo nessuno dei tre ha funzionato ah uno si benissimo aia non serviva perché tanto adesso si ripara mentre c'è ooo questa sta andando male no ahia l'erba farà lentare ahia l'erba farà ahia l'erba farà ahia l'erba farà ahia ok a ripararsi cioè a riparare la ma non a posizione ed è la fine della gara ahia che brutta questa gara ultimo a posto undicesimo penultimo c'è zero punti io ho capito che gli ultimi due non prendono punti sono stato primo per lungo tempo e poi ta tutti mi hanno raggiunto tranne uno quindi resto sul podio ma sono un ruoto appunto fortuna continua quindi è finito il campionato ed è finito sta finendo il pepe questo sono io terzo al secondo posto ta da ed ecco il vincitore che non so chi sia e gli altri partecipanti ok quindi cosa succede adesso è finita ci vediamo al prossimo episodio ciao